La chitarra 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 E' un caso che tu mi lo senti, così che Antonio Senni, il ricco Beniguelo. S'occupe gli uomini sui sì, e mi ne vanno più bene, e so santi tutti e tre, come ne mette, su tempo si lavà, da fargli pagunia, l'onore che è andato, da farlo ripetare. Senni, il ricco Beniguelo. Grazie, grazie. Grazie ragazzi. Vieni davanti Daniela, allora mentre loro guadagnano l'uscita, noi andiamo a presentare il nuovo gruppo. Voi dire tutto?